Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. A una settimana dall'uscita di Aerial Warriors, l'Era della Calamità, possiamo già iniziare a fare qualche considerazione sull'esito di questa particolare operazione targata The Legend of Zelda. C'erano infatti molte perplessità a riguardo di questo particolare prequel di Breath of the Wild costruito su un'impostazione alla Warriors. E non solo il prodotto finale si è rivelato all'altezza del nome che porta, ma analizzando i primi dati di vendita resi pubblici, beh, anche gli utenti sembrano aver gradito parecchio l'ultima fatica di Omega Force. Prima di iniziare vi ricordo che in occasione del Black Friday abbiamo creato un gruppo Telegram per raccogliere le offerte più interessanti a tema videoludico. Vi consiglio di entrare perché tra oggi e domani ci saranno sicuramente tantissimi sconti da segnalare. Vi lascio il link in descrizione. Partiamo! È stata la stessa Koei Tecmo a rilasciare i primi dati di vendita di Age of Calamity e i risultati sono più che sorprendenti. Con ben 3 milioni di copie piazzate globalmente, includendo sia le edizioni fisiche che quelle digitali, Aerial Warriors ha battuto qualsiasi record di incassi relativo alle serie dei Warriors. È doveroso ricordare infatti che la serie dei Dynasty Warriors è una longeva saga che ha fatto il suo debutto nel lontano 1997 su PlayStation e da allora ha visto un incessante susseguirsi di capitoli sia principali che spin-off. Infatti il prequel di Breath of the Wild ha polverizzato le vendite anche di esperimenti che vedevano l'utilizzo di IP molto popolari come Berserk, One Piece e Fire Emblem. Anche rispetto al precedente capitolo di Aerial Warriors, arrivato nel 2018 su Nintendo Switch in una Definitive Edition, la ricezione è stata molto più entusiasta arrivando a registrare in un mercato come quello inglese, storicamente molto diffidente verso il genere De Musou, un incremento di oltre il 300% nelle vendite. Certo, siamo lontani dal rendimento di un capitolo principale della serie di The Legend of Zelda, ma sono il primo a ritenere questo traguardo un successo inaspettato. La scommessa da parte di Nintendo si è rivelata vincente e il rischio di elevare una tipologia di gioco solitamente improntata al grinding a tassello fondamentale di una narrazione che presto troverà il suo compimento in una trilogia, ha ripagato l'audacia dell'azienda giapponese. Certo, da una parte, l'era della calamità è uscito in un momento estremamente favorevole. Con una base installata di oltre 60 milioni di console e l'essere stato presentato come l'ultimo titolo di punta per il 2020 di Nintendo, la strada per il successo era spianata. Ma non dimentichiamoci quanto i Musou, ovvero gli action alla 1 contro 1000, siano visti con diffidenza dal pubblico occidentale. Tra l'altro l'entusiasmo di Eiji Anuma nei confronti del prodotto finale apre degli scenari molto interessanti per il futuro della serie e non solo. Credo sia scontato il fatto che vedremo il gioco base arricchito da DLC, proprio come accadde per le prime incarnazioni dell'Ariel Warriors apparso su Wii U e 3DS. Non credo però che vedremo nell'immediato futuro un nuovo Zelda rifarsi alle meccaniche dei Warriors, anche perché la forza dell'era della calamità è quella di aver sfruttato un arco narrativo, la guerra contro la calamità Ganon, che si sposava perfettamente con le impostazioni di gioco più action e meno open world. Insomma, a costo di ripeterlo allo sfinimento, credo proprio che la forza di Age of Calamity sia stata quella di reimmaginare Breath of the Wild con un impianto da Musou, piuttosto che tirare fuori un Warriors e riempirlo di fanservice pensato per attirare gli interessati alla saga di Zelda. E gli ottimi risultati che sta ottenendo il gioco potrebbero spingere Nintendo a riproporre operazioni del genere, reinterpretando sotto una nuova luce alcuni di sue brand di maggiore successo. Anzi, viaggiando un po' con la fantasia, Nintendo potrebbe finalmente decidersi a riesumare qualche saga scomparsa da anni, come F-Zero o Advance Wars, e lasciarla in mano a studi esterni, supervisionandone il lavoro, ma lasciando carta bianca sulla direzione del progetto. Il rischio che ne esca un prodotto tutt'altro che riuscito c'è sempre, ma in questo periodo storico la casa di Kyoto potrebbe giovare enormemente da delle collaborazioni del genere e l'ottima fattura di un titolo come Aerial Warriors è la dimostrazione che con le dovute accortezze si possono ottenere risultati tutt'altro che modesti. E voi poracci cosa ne pensate? Avete dato una chance a questo Aerial Warriors? Vi piacerebbe in futuro vedere altre collaborazioni del genere? Pensate per stravolgere l'impianto di alcuni giochi di successo? Come al solito vi aspetto nei commenti, mi raccomando vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Paolo Aerial, Michele Warriors, ciao!